Ho conosciuto Piteco durante diversi convegni ai quali ho partecipato, dove Piteco è sempre presente e quindi abbiamo conosciuto Piteco e abbiamo fin da subito pensato di adottare questo sistema per il nostro gruppo. Due parole sul nostro gruppo. Il nostro gruppo è un gruppo che è cresciuto molto negli ultimi anni, attraverso tante acquisizioni in tutta Europa. Ci occupiamo di prodotti per i fai-da-te e siamo presenti in diversi paesi. Stiamo procedendo per il consolidamento del gruppo, vogliamo diventare una multinazionale. Oggi in effetti il gruppo è più un gruppo di società. Questo gruppo oggi è gestito con dei sistemi informatici ancora diversi, quindi diventava importante avere un sistema di tesoreria che unificasse tutti i vari responsabili e la tesoreria di gruppo. Abbiamo pensato a Piteco perché abbiamo visto che rispondeva a tutte queste caratteristiche. L'abbiamo installato negli ultimi due anni, abbiamo fatto il progetto che ha coinvolto tutto il gruppo e devo dire che siamo estremamente contenti di questo progetto perché ci ha portato dei grossi risultati. Cioè, prima quella che era la tesoreria gestita in autonomia dei vari paesi e quindi c'era poca conoscenza all'interno della holding di quelli che erano i flussi di cassa, di quelli che erano le situazioni di tesoreria appunto di diversi paesi. Oggi invece è tutto centralizzato, quindi tramite questo sistema appunto tramite Piteco abbiamo sotto controllo l'intero gruppo. Si può migliorare ancora, difatti stiamo valutando con voi altri pacchetti da aggiungere. So che state stringendo nuovi accordi anche con altri partner che sicuramente per noi saranno interessanti perché siamo da entrambe le parti nello stesso mondo, dalla tesoreria appunto, e quindi direi che l'esperienza per noi è stata più che ottima e vogliamo continuare, vogliamo andare avanti, vogliamo implementarne e sviluppare altre cose insomma. Grazie a tutti!